Continuano le segnalazioni alla redazione di TV City. Questa volta il grido d'allarme arriva dai residenti di via privata del Gatto, la strada che da piazza Luigi Palomba conduce a via circunvalazione di fronte all'istituto Sauro Morelli. Dalle immagini pervenute alla nostra redazione si vede chiaramente quanto la strada sia sporca con risciuti e cartacce ovunque dietro alle auto in sosta. Sono mesi che siamo in questa situazione, denunciano i residenti. Qui non viene mai nessuno a spazzare. Dopo le numerose denunce dei cittadini a TV City, con l'insediamento della nuova ditta, la situazione in città sembra in parte migliorata, ma restano ancora disagi e aree da pulire senza contare le erbacce che invadono ancora le marciapiedi in molte zone della città.